Ehi, Giorgi bambino, che cosa stronzo? Sì, parlando per voi senza cucito. Sì, voglio uscire di casa, sono stato bloccato qui tutto il giorno. Voglio fare qualcosa di parso. Non voglio vedere un porno. Oh sì, facciamolo! Plato's Retreat! Sicuramente! Va bene, ci vediamo in cinque al piano di sotto. Va bene, ciao! Oh, le baracce! 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 Tanta che è un bel cazzo di sandwich! Oh, le baracce! 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 No can't go, no can't go No, I can't move, so I won't go Nothing, nothing at all